Mi chiamo Monserrat Roig e vengo da Barcelona, da Cataluña. Ci sono i dolci tipici di ogni parte e poi si fanno anche dei dolci fritti che poi vengono truccherati. E poi prima di incominciare il carnevale c'è il giovedì grasso dove si mangia un tipo di salame che è fatto di maiale con uovo. E quello si mette dentro anche di una frittata. E poi una volta che è già passato il carnevale e incomincia il digiuno della quaresima, lì si mangia il baccalà con ceci e uova sode. E non si beve, il carnevale si beve, poi che incomincia la quaresima non si beve più. E finché arriva il giorno di carnevale c'è una vecchia, che la chiamiamo la vecchia quaresima, che li vai strapando tanti piedi come settimane che mancano per il carnevale. Ogni piedi che strapi è pieno di cioccolatini che si dà ai bambini.